Lei su tre punti oggi non mi ha convinto per niente. Il primo, se esce la Guardia di Finanza per un'operazione di polizia e alla luce dell'operazione di polizia poi deve tornare indietro perché c'è mare alto, io non capisco per quale motivo dentro, non la telefonata al 112, non Frontex, non l'Universo Mondo, ma perché se esce la Guardia di Finanza per fare un'operazione di polizia e deve tornare indietro perché il mare alto non parte la guardia costiera per andare a salvare le viti umane, questo lei non l'ha spiegato oggi, questo non vuol dire che è una colpa alla destra, alla sinistra, al decreto ONG, è un dato di fatto, su questo punto bisogna avere chiarezza perché se la Guardia di Finanza esce e poi rientra perché il mare è alto, questo è l'unico punto su cui proprio non c'è detto niente.